E' stato inaugurato lo scorso 25 giugno, fondamentale per i turisti e non solo, e l'ufficio di informazioni Urban Box di Piazza Salotto fungerà da infopoint per la comunità, ma soprattutto per i visitatori della città di Pescara. Questi gli orari al mattino dalle 10 alle 13, nel pomeriggio dalle 17 alle 21, dal prossimo settembre, come previsto dalla convenzione firmata un mese fa in comune con l'Università d'Annunzio, servirà anche da sportello di orientamento per quanti siano interessati a conoscere di più e meglio le proposte dell'Ateneo. L'assessore Alfredo Cremonese. Potremmo dire così, meglio tardi che mai, però insomma era stato chiuso per tanti anni, l'infopoint è appena riaperto da un mese e le cose vanno piuttosto bene mi pare, no? Le cose vanno molto bene, in realtà Pescara ha da tempo un grande neo che è quello dell'informazione e non solo, è quello della promozione turistica. Questa amministrazione da quando si è insediata nel 2019 ha subito puntato su questo programma, poi purtroppo per motivi dovuti sia al Covid prima, alla guerra poi, insomma c'è stato sicuramente un importante ritardo, ma da oggi Pescara ha 365 giorni l'anno, non solo un punto di informazione turistica, ma soprattutto un punto di promozione del territorio. Entrando nello specifico, quali sono i servizi che offre questo infopoint? Naturalmente informazioni a tutto campo. Ma informazioni a tutto campo, per adesso abbiamo un QR code che può essere scaricato 24 ore su 24 e da cui si possono accedere a tutte le notizie che riguardano il territorio comunale di Pescara, quindi c'è davvero tutto. In loco abbiamo anche il materiale cartaceo che spesso può essere utile a un'utenza diciamo più adulta. La signora è gentilissima, si è recata in questo infopoint per... Vedere informazioni sui treni, visto che non abbiamo la macchina, come ci si può spostare in zona senza... con i mezzi, con il bus, il treno, eccetera. Ho trovato le informazioni che cercavi? Le informazioni che cercavo, sì. Da dove viene signora? Da Vienna. Cioè lei è viennese? No, io sono milanese e migrata. Come trova a Pescara? Carina, molto carina. La prima volta? Sì, mi è piaciuto molto perché c'è poco traffico. In città a misura d'uomo. Sì, esatto, direi proprio così. Breakfast qua a Pescara, vengo qua per dare poi ai clienti miei per offrirgli attività pomeriggia. Quindi giustamente lei lo fa per i clienti del suo B&B. Esatto, sì. Ha trovato comunque cortesia disponibilità. Sì, è personale molto gentile, preparato a ospitarlo, ho trovato.